Per aver creato un cinema universale, capace di arrivare al pubblico nella sua interezza, per chiamarlo a riflettere su questioni sociali in una chiave critica e contemporanea. È questa la motivazione che ha spinto la Regione a consegnare al regista Paolo Virzi la più alta onoreficenza toscana, il Pegaso d'Oro. La cerimonia oggi al Teatro della Compagnia di Firenze, con il Presidente della Regione che descrive così i punti principali del lavoro svolto nei film. Ha parlato di noi, ha parlato delle questioni sociali, dei problemi umani, personali, delle persone. Ha parlato della costa, da cui io provengo, anche questo è importante. E poi secondo me ha avuto grande capacità di analisi dei cambiamenti delle persone. Ad esempio, credo nel capitale umano ci sia una descrizione anche cruda, realistica, di un mutamento umano che è quello prodotto dai tempi nefasti che abbiamo attraversato, di dominio del mercato, di dominio della finanza. E poi anche c'è una capacità di rendere bene, a mio parere, il dolore, la sofferenza, di come la comunità sia in grado, con qualche riferimento anche alla Toscana, anche questo non ci dispiace affatto, la comunità, intendendo istituzioni, ma anche volontari, ma anche parenti, ma anche vicini, sia in grado di alleviare la sofferenza. Nella mattinata è stato proiettato anche il film Ovo Sodo, uno dei primi di Verzi. Ma sono molte le pellicole condotte dal regista toscano, tra cui Tutta la vita davanti, La prima cosa bella, Tutti i santi giorni e Notti magiche. Beh, è molto importante per me, davvero molto importante, perché è come se chiudesse un cerchio di quella sfida un po' folle che avevo fatto a 21 anni, andandomene via dalla piccola città, portandomi dietro un sentimento che era una promessa, anche quello di dire andrò e vi racconterò chi siete, racconterò di cosa patite. A partire proprio da quella cosa che ha detto Rossi, il dolore, a partire dalla sofferenza, per provare a trasformarla, per l'appunto, in un racconto a volte anche comico, o perlomeno a fare delle commedie su questa cosa del patire, e di portarmi dietro quindi anche quegli strumenti che sento, o che di poter condividere con la gente in Toscana, che è il sentimento dell'ironia, dello sguardo sulle cose che è sempre marcia a braccetto, appunto, con l'irriverenza, il gusto della burla, anche di fronte alle cose più tragiche dell'esistenza.